Una giornata dedicata alle scienze per gli alunni del liceo scientifico del De Santis di Sant'Angelo dei Lombardi, guidato dal dirigente Gerardo Cipriano. Nell'auditorium comunale dedicato alla memoria di Falcone e Borsellino, gli studenti dell'indirizzo in scienze applicate hanno presentato i lavori realizzati durante le attività dei compiti autentici per sviluppare le competenze chiave di cittadinanza. Hanno scelto di raccontare il 68, un anno durante il quale è iniziato un cambiamento epocale che ha messo in moto una rivoluzione pacifica in grado di cambiare il mondo. Il percorso ha toccato vari aspetti, la storia, la musica, i cambiamenti sociali e la tutela dei diritti, ma soprattutto i ragazzi si sono interrogati sui cambiamenti scientifici che hanno preso l'avvio dei movimenti studenteschi del 68. Sempre a cura degli alunni, l'allestimento della mostra fotografica sui mille volti del 68 con una particolarità, l'intera esposizione in QR code non poteva essere altrimenti, considerando la specializzazione in scienze applicate. Gli scatti scelti restituiscono la complessità di quel periodo del secolo scorso, gli eventi storici, le lotte giovanili, la segregazione razziale, il terrorismo, le icone del 68 e lo spettatore, grazie al proprio smartphone, ha scoperto con la scansione di QR code i soggetti in foto, i temi trattati, gli eventi ritratti.